La Regione Campania ha risposto all'ennesima interrogazione della consigliera regionale Mari Moscarà del Movimento 5 Stelle in merito ai rifiuti stoccati a Polla dalla SRA, trasferiti in Tunisia attraverso il porto di Salerno e poi bloccati nel porto di Sus in Maghreb, in quanto sequestrati dalla magistratura tunisina. La Regione vorrebbe che i rifiuti venissero ripresi dalla SRA con una fideiussione di circa 3 milioni di euro. L'azienda pollese ha presentato ricorso prima al TAR e ora al Consiglio di Stato. La consigliera regionale ha incalzato più volte la Regione sulle modalità di concessione delle autorizzazioni e la Regione, tra le varie risposte, ha riferito che i documenti sono stati consegnati alla Procura di Salerno. Nell'ultima risposta, dagli uffici tecnici riferiscono che ogni transazione internazionale di rifiuti è stata bloccata e anche le autorizzazioni a un'altra ditta campana che voleva portare i rifiuti in Tunisia congelate. Avevamo ragione, rimarca la Muscarat, a sospettare che dietro il traffico di rifiuti non riciclabili in Tunisia, all'origine di un'inchiesta che ha portato nei mesi scorsi, ricorda la consigliera, all'arresto del locale Ministro dell'Ambiente e di altre 12 persone, ci fossero evidenti negligenze della Regione Campania. 282 container di balle di rifiuti italiani spediti a Sus non possono non essere oggetto di controlli da parte delle autorità regionali alla luce di norme europee che impongono agli Stati membri la verifica su ogni carico di rifiuti da spedire, sanzionando eventuali violazioni. Dalla risposta dell'Aggiunta regionale, conclude la Muscarat, c'è una palese ammissione di colpe.